Ciao ragazzi, sono venuti in un nuovissimo video oggi su Fortnite Come avete già visto, stanno facendo una reaction a Mongral Che si è già fatto la sua primissima kill Delle tante 22 che farà, credo Sì, 22 Ecco, siamo a due, ora Ne farà altre 20 Però, vediamo Vediamo come gioca E vediamo Mi sembra che sia una sola o verso il suo Allora, vai 18 Tattico All E' molto E' più forte No, ah no Pensavo che c'era scritto Ricky, invece c'era scritto Rizzi 10 minuti, è bene Ah no, se non sapessi meditare così No, bella Fa doppio edit No, era più bello se lo faceva Comunque, secondo il turismo rispetto a me è completamente diverso Oh no E siamo già alla quarta kill Tattica Vediamo Escezione Non l'ha preso Credo Perché non ho visto il danno Però vorrei sapere All'ha preso di sicuro E anche qua mi sa che l'ha preso Un bel colpo in testa da 139 Va Sale Ha finito il legno Che abbia poi così tanti materiali Sarà meglio che uccida presto questo qui Perché non ne ha più Non ne ha molti Adesso si è preso tutti i suoi 300, 300, 500 Ok È la cash cup questa qui mi sembra È caduto dall'albero Va bene Chiarissimo Io so perché Quando lo faccio io Con Ah no Quando lo faccio io Non si rompe mai Olè Guarda Olè È già uno in meno 9 kill Mi mancano 13 Va Mi sa che sto qua muore Per forza 190 Beh a me piacerebbe Vabbè sarebbe più bello ucciderlo Però essere ucciso da lui Comunque È una morte da signori Che comunque Nella World Cup di Fortnite Non è che Ha fatto una bruttissima posizione Ha fatto È arrivato Abbastanza bene Olè Mi mancano 11 Esattamente a metà dell'opera E c'è ancora 36 persone 25 No non l'ho visto bene Mi stavo grattando l'occhio Ah no Un altro Morto Io fossi stato in lui Mi sarei preso una mitraglietta Perché io proprio senza mitraglietta Non so giocare Mi serve Un po' perché sono uno spam E poi Che nei momenti grigi Usa la mitraglietta Però altri player Non ne hanno bisogno Perché tanto non mancano un colpo A parte qua E a parte Ok Adesso Guarda Tra Due secondi muore Pam Oh l'ho detto Due secondi E vi giuro raga Che non l'ho visto Io questo video Ho visto solo l'inizio Non penso perché Stavo registrando Poi C'era un problemino L'ho dovuto Ricominciare Ma non l'avevo visto 13 kg Mancano 9 Addio Ma degli ne ha messo 3 Una adesso Una sinistra Una sul tetto Oddio Va Lanciamissimo Questo video qua Doveva uscire ieri Solo che Problema tecnico Non gravissimo Ma c'è stato Un problema tecnico E lo sto facendo oggi Vabbè Non è successo niente No problem L'importante è che ci sia Mignor tardi che mai Double edit Adesso Qui è riuscito a colpirlo È riuscito a colpirlo È stato bravo Ha mancato Due colpi Oh la madonna Dai Perché io non so fare Ste robe È da dire Che da computer In realtà Non dico che Sei scarso Però Non c'è la mira assistita Cioè Fai più fatica Io gioco da switch E non metto a segno Un colpo Allora Sono rimasti in 13 Lui ho 17 kill E mancano 5 Ha preso un bel colpo Da 72 Ok Si ritira lo shieldone Io però Mi sarei tirato Prima uno shieldino Poi uno shieldone E mi sarei rifullato Però Il gioco è suo E il suo account Sceglie lui Mi sa che sto qua Finisce male Non mi sembra Estremamente forte Sto qui Avrà camperato Tutto il tempo E sperava Da ucciderlo Però Le ha fatto sprecare Dei colpi Almeno non è morto Tutto Loro con le granate 15 persone 115 E 3 2 No no niente 3 2 1 Pam A me L'ho sbagliato Per due volte Almeno per uno E' indovinato 10 persone Manca un 3 Il mio record di kill In questa stagione Mi sembra che sia 18 Però era l'inizio C'è gran parte della gente Che ho ucciso Tipo Una decina Non erano fortissimi Altri Mi avevano fatto abbastanza dannare Abbiamoci Adio Questa E' il mio record di kill Quello Selle Non è caduto Caud strongest Si shouldv doğru ma non ce la farò mai perché sono scherzo ok vai vai guarda vediamo come la finisce è abbastanza in alto a buttare giù tutto mi sa che sia impossibile ma mi sa che accadere da quell'altezza stramuori mi sa che si capisce abbastanza eh 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 non abbastanza prima è che i pro player tipo lui, tifu, ninja buga pubblicano solamente video dove vincono quindi magari loro fanno una partita della madonna 52 kill un bot di kill e poi alla fine muoiono da un bot perché avevano poca vita e che annullano completamente il video e questo è il problema sono entrato ok le mancano due kill le manca una kill e vabbè facciamola finita così adesso si troverà il bot dietro il muro che lo ammazza come ho fatto a non subire danno eccoci qui vabbè ragazzi spero che il video vi sia piaciuto ricordatevi da spaccare il tasto di mi piace sui video su instagram cliccate il nuovo sui 07 attivate la campanellina e iscrivetevi al canale ciao ciao ciao